perché noi ci interessiamo a questa questione del coronavirus in cina ci interessiamo perché nel nostro canale ci occupiamo di escatologia questa nuova visione dell'escatologia che abbiamo chiamato scientifica in cui i protagonisti sono questi extraterrestri che ritornano presumibilmente da questo pianeta nibiru di cui si aspetta l'avvistamento e quindi diciamo in questo abbiamo iniziato la nostra attività di decodificatori di profezia con questa una delle profezie più diffuse da oltre 100 anni la profezia dei tre giorni di buio tre giorni di buio che interesseranno la terra in cui non sarà possibile accendere nessuna luce solo le candele benedette potranno generare la luce e noi grazie all'esame di questi testi chiamati bibbia di colbrin che sono venuti a conoscenza di recente che parlano di questo misterioso asteroide chiamato distruttore e abbiamo rilevato che i tre giorni di buio sono il fenomeno classico di questo il sintomo classico di questo asteroide che incende l'atmosfera e quindi crea un oscuramento da solleva delle polveri e proprio questo il fenomeno di tre giorni di buio che poi grazie a queste approfondimenti abbiamo ritrovato un po dappertutto nella bibbia nell'esodo nei profeta gioele e questo ci ha permesso di creare una playlist approfondita su questo fenomeno che abbiamo chiamato la fine del mondo chiamata spiegata scientificamente e quindi se parliamo di escatologia il punto di riferimento è l'apocalisse di giovanni e questa questione di questo anticristo e quindi noi ci siamo soffermati su un particolare di questo anticristo che come reggita apocalisse 13 che c'è una tal testa di una bestia una di tante teste che era ferita a morte ma questa piaga fu farita tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia adorando il dragone quindi noi ipotizziamo che questa testa sia il potere economico di questo regno nibiriano che dietro le quinte anche delle vicende terrestri e che quindi una grande inflazione danneggia questo potere economico e questo diciamo così chiamato anticristo si fa diciamo acclamare da tutta la terra per il fatto di risolvere una grande inflazione e questo diciamo rientra all'interno di un quadro più ampio che noi abbiamo chiamato vacche grasse e vacche magre sarebbe all'interno di un piano più ampio finalizzato a rastrellare oro il metallo che interessa a questi annunaki e quindi quello che ci ha fatto pensare un'inflazione e anche questo passo di apocalisse 13 17 nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio cioè il nome della bestia quindi che nella fase di risoluzione di questa inflazione lui crea una ristrutturazione del sistema monetario quindi crea una forma probabilmente sono in molte a pensare questa moneta elettronica carta di credito microchip e noi diciamo come profezie sicuramente troviamo una grande fonte dentro nostra damos e sono alcune quartine di nostra damos che lasciano pensare a una instabilità monetaria vediamo qui una prima quartina la legge valuta e preziosi cambierà tutta aumenterà di grados abbasserà così in basso sarà che poco oro si batterà e il segreto dopo il fame preste si scoprirà ma perché pensiamo che questo diciamo infezione virus possa provocare un fenomeno così di vasta portata per capire le ragioni bisogna andare su delle questioni un pochettino tecnica diciamo che la banca centrale europea come altre banche centrali sono incaricate di mantenere l'inflazione intorno al 2 per cento quindi il loro compito è perché perché si ritiene che ci sia una certa correlazione tra l'inflazione e la disoccupazione cioè quando c'è poca inflazione le persone non investono perché non sono intimoriti dal fatto che il denaro perde il proprio valore qui vediamo il presidente draghi della banca centrale europea ma vediamo che a causa della crisi dei mutui americani e a causa di questa come si dice crisi e decrescita normalmente diciamo che la banca centrale controlla questa inflazione variando i tassi di interesse a cui presta i soldi alle banche quindi diciamo che c'è un curioso sistema di scatole cinesi in cui la banca centrale europea presta i soldi alle banche e le banche poi comprano i titoli di stato italiano ecco malgrado abbiano abbassato questi tassi l'inflazione non c'è stato verso di farla aumentare per cui hanno dovuto ideare un sistema nuovo ed esclusivo il quantitative easing cioè in poche parole hanno stampato soldi sembrerebbe quasi un ben godino stampiamo soldi e questo diciamo pratica ha interessato un po tutte le banche quella americana e quella giapponese e quella europea i cinesi invece sono un caso a parte com'è che questa grande quantità di denaro non ha fatto aumentare diciamo l'inflazione e diciamo che sotto le qui dietro le quinte c'è una guerra tra la cina e gli stati uniti gli stati uniti accusano la cina di aver usato una politica monetaria truffaldina quindi hanno combattuto i dazi di trump stampando soldi e svalutando i yuan e quindi diciamo quell'aumento di prezzo che ci sarebbe stato a causa dei dazi è stato distrutto da questa politica di stampare soldi dei cinesi e quindi cosa succederebbe se a causa di questo virus i cinesi interrompessero questa bonifica e tirassero fuori tutte le scorte monetarie diciamo il mercato verrebbe inondato da una gigantesca quantità di carta moneta di valuta che dollari euro che probabilmente i cinesi hanno creato come riserva e potrebbe innescarsi un'inflazione planetaria questo è lo scenario che noi quindi si parla di una vera e propria guerra economica e qui presentiamo un video del giornalista ufologo Pablo Aio che presenta uno scenario inquietante dice che non sia dietro le quinte ci sia una guerra batteriologica che quindi non sia questa un primo atto di una una risposta americana quindi presenta vi invitiamo a vedere questo video per prendere la visione di tutte queste diciamo ipotesi che si tratti di in realtà di una guerra batteriologica e a noi la visione di questo video ci ha subito riportato alle profezie della madonna di anguera che parlano proprio di guerre batteriologiche qui vediamo varie profezie di cercare i figli armi nucleari e biologiche saranno usate dagli uomini dalla grande barba e il terrore si diffonderà in varie nazioni il vaiolo sarà usato come arma contro una nazione da parte degli uomini della grande barba gli uomini dalla grande barba girano in una grande città in laboratorio è stata preparata l'arma della grande distruzione gli abitanti di filadelfia vivranno momenti quindi parla proprio della città di filadelfia quindi americana che non sia una ripercussione a caso mai i cinesi avessero gli stessi sospetti di Pablo Aio e scoprissero lo zampino di qualcun altro sarebbe un bel guaio potrebbero reagire il terrore arriverà il vereno si diffonderà continuerà molti dei miei poveri figli ma chi potrebbero essere questi uomini dalle grande barba potrebbe essere che i cinesi per non aprire uno scontro diretto immediato potrebbero simularsi dietro dei terroristi islamici che dopo gli attentati alle torre gemelle sono l'incubo di tutti gli americani